Musica Eccoci qui, ben ritrovati con l'appuntamento della martedì sera dedicato su Antena Suddextra al Taranto, al calcio di Serie C saluto gli ospiti che sono con me stasera in studio e li ringrazio ovviamente, Angelo Di Leo giornalista, grazie Ciao, grazie Gianni, grazie, buonasera Poi abbiamo Roberto Donofrio, uno dei nostri opinionisti grazie Roberto Ciao Gianni, grazie a te Allora, si è concluso il mercato io direi anche finalmente perché durante il periodo del mercato il calcio giocato finisce in secondo piano a volte anche disturbato così possiamo dire dalle voci di mercato e per il Taranto c'è stato l'ingaggio di Manuel Nocciolini dal Giuliano per la verità si è trattato di uno scambio cioè dato al Giuliano la formazione campana il giovane attaccante la Monica classe 2001 mentre al Taranto è arrivato quindi che è sicuramente un giocatore più esperto che potrà garantire esperienza anche qualche centimetro in più rispetto alla Monica e quindi arriva un altro attaccante intanto tra poco vedremo anche la lista dei convocati perché questa è una puntata speciale in quanto siamo alla vigilia di una giornata di campionato tra l'altro anche molto importante perché il Taranto domani giocherà allo Zaccheria di Foggia in un derby storico che è sicuramente molto sentito da entrambe le tifoserie una valutazione sul Nocciolini nel frattempo io pregherei Gianfranco Menillo che saluto e ringrazio per la collaborazione tecnica di proporre in onda la foto di Manuel Nocciolini che tra le altre squadre ha giocato anche col Parma ed è proprio con questa maglia che lo vedremo nella prossima fotografia Roberto Donotti ma da quello che posso ricordare è un esterno un esterno d'attacco un esterno alto sicuramente sarà utile diciamo alla squadra che chiaramente è palese l'abbiamo visto in questo periodo non riusciamo a concludere a concretizzare tutto quello che creiamo quindi una freccia in più nell'arco di Mr. Capuano che sicuramente presumo saprà utilizzare al massimo secondo te una valutazione? spero che porti esperienza e peso Taranto ha bisogno di un po' di fantasia tra le linee non so se Nocciolini risponde a queste caratteristiche ma c'è bisogno di peso nei momenti opportuni nei momenti giusti il secondo tempo che tanto non è piaciuto a Capuano quindi figuriamoci il primo come stato e quindi Capuano è stato molto onesto intellettualmente ad ammettere degli errori tattici degli errori tecnici quindi c'è bisogno di peso di esperienza perché certe partite in questa categoria si vincono molto con l'esperienza e la fortuna è degli audaci Taranto deve essere un pochino più audaci evidentemente però Gianni non mi pare sia tra i convocati o sbaglio? Mi pare di Nocciolini e affoggia possiamo dare questa notizia con la squadra è arrivato da poco però non è tra i convocati infatti tra poco li vedremo i convocati ci sono soltanto tre attaccanti per dire Rossetti Semprini e Bifulco che tra l'altro è recuperato dopo l'infortunio non c'è Tommasini mentre per quanto riguarda Nocciolini è un attaccante ricordiamo di un metro e ottantadue eccolo qui prelevato dal Giuliano 33 anni poi ne farà 34 a maggio campionato finito Toscano di Piombino ha giocato oltre che nel Giuliano anche nel Grosseto nel Monopoli nel Renate nella San Berenettese nel Ravenna nel Pordenone nel Parma nel Forlì nel Montichiari Gavorrano Pisa e Cuoio Pelli ha sempre giocato in Serie C pertanto è un giocatore esperto della categoria anche di quella meridionale perché ha giocato sia con la San Berenettese che con il Monopoli oltre che con il Giuliano e ha giocato anche nove partite con la maglia del Parma nel 2018 in Serie insomma l'esperienza ce l'ha è un attaccante però non è un centravanti è un attaccante e poi quello che mi hai dato sapere è anche bravo nei calci piazzati quindi un'altra soluzione in più per mister Capuano nelle palle inattive quindi insomma sicuramente è uno di quegli elementi che alla società mancava e sono convinto che farà bene anche qua a Taranto il mercato tra l'altro a Milano si è concluso da poco più di un'ora tra poco faremo un collegamento Skype anche con Fabrizio Caglianiello che ha seguito costantemente abbiamo fatto davvero un gran lavoro io mi complimento di cuore con i colleghi della redazione di Antenna Sud che hanno dato in tempo reale tutte le notizie di quest'ultima giornata che si sa è quella che proverbialmente dedica le maggiori sorprese i colpi i botti finali come si suol dire facciamo un passo indietro in attesa di tornare a parlare del mercato anche perché poi abbiamo in chiave Taro parlato abbondantemente questa era l'ultima notizia di questo mercato adesso si va tutto in un fiato fino alla termine di aprile per il giurone di ritorno ci sono 14 gare da giocare nel frattempo stanno scorrendo le immagini nell'ultima partita quella giocata tra Taranto e Gelbison nella puntata di stasera approfondiremo anche il tema legato al reclamo presentato dal Taranto tant'è che lo 0-0 a cui si riferisce questa partita non è stato omologato pertanto cercheremo di capire meglio perché cos'è accaduto dal dirigente Caligani che avremo in collegamento telefonico allora una valutazione sulla gara l'ultima giocata dal Taranto ennesimo 0-0 ricordiamo che il Taranto non segna dal 18 dicembre cioè dal calcio di rigore trasformato da Romano a Messina e quindi nel 2023 ancora a caccia della prima gioia del primo gol però ecco se nelle ultime 5 giornate 507 minuti il Taranto non ha segnato è pur vero che ha subito soltanto un gol sul calcio di rigore a Catanzaro tra l'altro era una squadra che pareggiava poco invece un po' cambiato il gol del Taranto però vanno dette due tre cose secondo me positive in un contesto dato consentimi la battuta una partita così brutta non poteva che non essere omologata è vero sembra quasi una nemesis è stata una delle più brutte è vero vista lo Iacovone pochi spettatori ma non sono neanche divertiti però sono partite che alla fine per le quali alla fine il punto sembra quasi dorato perché sono quelle partite talmente sbagliate che si rischia anche di perdere però anche dall'altro lato non è che abbiamo visto un gioco proteso all'attacco quindi alla fine 0-0 ahimè giustissimo ecco ora al di là della battuta l'omologazione invece è legata a un fatto burocratico poi magari la temporanea mancata omologazione non voglio essere assolutista ci mancherebbe altro vediamo come andrà spieghiamo subito che la non omologazione del risultato dipende dal fatto che esiste un preannuncio di reclamo e allora il regolamento prevede che indipendentemente dal fatto se poi si abbia ragione o torto il risultato non viene omologato proprio in attesa del giudizio subiudice certo il Taranto ripeto io di Capuano un giudizio positivo perché Capuano con una squadra a disposizione è a metà classifica è una squadra che rischia poco non produce molte occasioni anzi ne produce poche ma è una squadra molto attenta calibrata e Capuano più di una volta ha letto la partita l'ha saputa leggere mi è piaciuto negli spogliatoi nelle sue dichiarazioni l'altro giorno perché ha detto non mi è piaciuta la gara e ha spiegato perché abbiamo sbagliato un intero tempo ecco a me piace questo approccio che ha questo allenatore è molto schietto e quindi è una schiettezza che fa bene secondo me a questo mondo e al calcio dove spesso si è troppo o paludati o addirittura più più diplomatici del mondo politico non appartiene a Capuano non appartiene a Capuano ha detto non mi è piaciuta la gara e vi spiego perché a me piace questa schiettezza poi c'è risvolto negativo questa è una piazza che ha bisogno anche di essere avvicinata alla squadra attraverso i risultati il Taranto due anni fa ha vinto un campionato l'anno scorso si è salvato grazie a un ottimo girone d'andata e ha tenuto botta ricordiamo l'anno scorso era un brutto periodo il generale febbraio per Taranto poi però marzo aprile e marzo sono arrivati quei punticini però ci si è salvati prima del dovuto per fortuna grazie al grande girone d'andata quest'anno c'è più linearità sempre però in una classifica media che ti fa stare troppo vicino alla parte bassa e apparentemente vicino ai playoff e io mi tengo cauto si era partiti sperando in un salto in avanti decimo non opposto per i playoff Capuano quando è arrivato piedi per terra ci si deve salvare credo che sia l'approccio giusto però in linea generale c'è bisogno di ravvicinare il pubblico allo stadio e forse con qualche gol con qualche vittoria con un piccolo filotto si potrebbe fare siamo a 30 punti in Serie C a metà classifica diciamo che potrebbe anche andare peggio ci sono piazze che allora teniamoci stretto quello che abbiamo però sognare e chiedere altro è legittimo per un tifoso sicuramente ma credo che poi insomma conoscendo mister Capuano e conoscendo anche il presidente perché uno delle persone più ambiziose che abbiamo nel Taranto è il presidente Massimo Giove è uno che non si è contenta di salvarsi sicuramente vorrà arrivare a fare questi playoff come lo vuole anche mister Capuano chiaramente però deve andarci cauto nel senso prima raggiungiamo l'obiettivo della salvezza il più velocemente possibile e poi ci salviamo domenica però la scarsa affluenza e l'empatia tutta la ricostruire è un tema sì quello però credo che sia e c'è una ragione sì 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 però credo sia un po' anche a prescindere da quelli che sono i risultati della piazza che purtroppo quello è un tipo di binario che il tifoso per una parte della tifoseria ha scelto e continua a portarlo avanti per la partita ti dico guarda intanto abbiamo guadagnato un punto se vogliamo parlare di salvezza sulla quinta ultima siamo passati da tre a quattro punti di stacco quindi se vogliamo guardare in ottica salvezza il Taranto domenica ha recuperato un punto per quanto riguarda poi il discorso del gioco beh lì purtroppo ahimè sono due squadre che hanno probabilmente pensato a non prendere gol e si sono annullati a vicenda e la cosa che a me un po' più ha preoccupato nel secondo tempo era questa frenesia di non incominciare l'azione dal basso il Taranto prendeva i palloni e lanciava e anche con Gianni ci siamo confrontati a mezzo dal basso mette ansia no no lo so però oggi tu sai meglio di me che gli allenatori partono dal basso per costruire però molti lo fanno tu sei notato ai mondiali di calcio pochi partivano dal basso sì però il fatto non c'è da rischiare non si riesce lo so però un conto è una scelta è una cosa studiata negli allenamenti un conto è vedere due centrocampisti perché poi il Taranto si è ritrovato con due centrocampisti che non riuscivano a prendere palla per impostare quindi è stata una necessità e penso che poi alla fine era quello di cui si stava lamentando mister Caparano si assolutamente perché poi alcuni giocatori si nascondevano pure quindi non erano hanno sentito molto la gara quindi io credo che già da domani sera che è una gara difficilissima già comunque vedremo qualcosa di diverso perché poi si è fatto male comunque Bifulco abbiamo avuto un nuovo centrocampista però la cosa che mi piace è che alla fine del mercato Bifulco Romano quel problema l'ha avuto effettivamente l'ha avuto la spalla cioè ha avuto una serie di cose però ripeto alla fine la cosa bella di adesso è che il Taranto ha delle sostituzioni che sono comunque in grado di sopperire a delle mancanze adesso vediamo che cosa accadrà col Foggia ma sicuramente adesso 10 elementi nuovi lo guardavamo prima io e te ci sono 9-10 giocatori voglio dire è una nuova squadra tra l'altro il Foggia quello è il Taranto tra l'altro il Foggia Giovanni proseguiamo tra l'altro se non ti diamo noia se vuoi puoi andare noi concediamo Gianni Sebasti grazie dell'ospitalità grazie all'ospitalità no e chiudo poi non possiamo prendere il sopravvento assolutamente no 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 potete il Foggia viene da se non sbaglio 7 vittorie negli ultimi 12 partite viene da questo robuante risultato di Pescara quindi andiamo anche a trovare una squadra che psicologicamente dovrebbe approcciare bene però è un derby il Taranto a Foggia ha sempre lasciato guarda ti dico senza anticipare delle cose che poi sicuramente parleremo di Foggia a Taranto comunque il Foggia come tutte le squadre temono le squadre di Capuano noi siamo una squadra che non prende gol cioè adesso ci facciamo i dovuti scongiuri ma andiamo a trovare una squadra che invece questa è la registra no però a differenza concedono molto perché sono squadre che attaccano ti vengono ad aggredire quindi se tu riesci a sfruttare al massimo le occasioni probabilmente puoi fare risultato noi la penultima partita che abbiamo fatto abbiamo preso due legnino a traversa cioè non ci dimentichiamo neanche questo perché poi quando diciamo che il Taranto non crea non è che il Taranto non crea certe volte creiamo tanto ma realizziamo poco diciamo pure che il Taranto ha un paio di rigori vabbè e non parlo mai perché è tanto inutile però un paio di rigori credo non è ancora vendetta però non è andata via di guardare avanti però alla fine domenica sicuramente non abbiamo visto una gara di calcio insomma alla fine non è stato bello però abbiamo modo di rifarci Capuano lo ha ammesso adesso lo sentiamo è stata la peggiore partita della sua gestione e probabilmente forse anche di tutto il campionato eccetto Casalinga eccetto il Taranto che era la partita d'esordio è stata una gara veramente brutta quella con il con la Gervison sentiamo mister Capuano mister oggi non mi pare di aver visto il Taranto Targato Capuano no assolutamente dopo i primi dieci minuti iniziali del primo tempo abbiamo fatto bene poi quando c'è stata che si è fatto male Alfredo che avevo cambiato sistema di gioco lì il secondo tempo è stato male 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 forse il più brutto lunghi larghi pensavo che Semprini mi potesse legare tra i due settori invece è stata una scelta fallimentare purtroppo bisogna ammettere questo eravamo lunghi e abbiamo fatto male niente non c'è più nulla da dire di buono oggi c'è da prendere questo punto in più rispetto alla grida play out ma su questo non c'è ombra di dubbio la politica dei piccoli passi però bisogna vincere questa era una partita da vincere non sono contento abbiamo preso un punto loro rimangono due punti dietro di noi però non va bene era una partita da vincere quindi non a campo scuse abbiamo fatto male senza ombra di dubbio emerge un altro dato che se non c'hai tre al centro campo diventa tutto più complicato questo poi ognuno deve fare il proprio mestiere questa squadra è stata costruita i punti che ha fatto diciamo le cose positive con dei concetti ben precisi quando purtroppo vengono a mancare delle certezze purtroppo non ha i centrocampisti che si possono giocare a due e mezza al campo e quindi abbiamo fatto fatica illimitata è vero complimenti questa è la verità mister questo fatto della rivoluzione di gennaio non può aver influito in qualche modo forse questo è l'aspetto che preoccupa di più perché la cazzim come diresti tu del Taranto è venuta un po' meno ma no sono giocatori che sono arrivati da poco e dovevo rimpinguare dei settori no poi non è detto che chi è arrivato deve giocare bisogna meritare perché altrimenti si possono sedere tranquillamente in panchina su questo non ce n'è il Taranto al di sopra di tutto abbiamo più scelte sicuramente oggi sono rimasto delusi da molti che sono andati in campo su questo non c'è un predilubbio quanto riguarda la cosa migliore che hai visto di questa partita c'è qualcosa di buono oppure tutto da buttare no 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 il primo tempo bene tranne i primi dieci minuti bene aggredivamo bene scalavamo bene abbiamo creato il secondo tempo è da cestinare totalmente tutto e mercoledì c'è il derby a Foggia bene comunque abbiamo alluncato abbiamo preso un punto e domenica e mercoledì prepareremo in questi due o tre giorni una partita importante un derby importante si è arrabbiato si vede molto molto deluso a proposito di schiettezza Gianni interessante questa frase che non è banale apre un mondo cioè non è che chi viene l'ultimo arrivato gioca l'ultimo arrivato in senso di mercato non in senso metaforico non è che l'ultimo ha prodato è interessante questo concetto perché a volte si pensa anche noi magari pensiamo ah sta arrivando un rinfonso sta arrivando il risolutore no vieni questo è il taranto la maglia è questa sudatela è un approccio mi piace lo condivido assolutamente sì prima di commentare ancora le dichiarazioni di Capuano volevo completare il discorso ufficializzazioni nuovi ingaggi perché è arrivato anche Fabio Finocchi che è un ragazzo del 2001 che è un centrocampista proveniente dall'Olbia campionato di Serie C girone B e poi è tornato ma queste sono notizie che avevamo già dato anche in questa trasmissione martedì scorso Antonio Boccadamo classe 1999 che è un esterno di destra può fare sia l'esterno basso che il quinto di centrocampo questo per dare a Capuano anche la possibilità di un'alternativa a Gianluca Mastromonaco perché mi pare che in quel ruolo oltre a Mastromonaco non ce ne siano si sta macinando chilometri Mastromonaco sì sì ma poi anche il fatto dell'età Gianni comunque il Taranto sta puntando su giovani interessanti quindi anche l'età media si abbassa sempre il Taranto sta programmando il futuro quindi giovani insieme a giocatori che hanno 25 26 27 anni quindi credo che sia la strada giusta per programmare anche assolutamente ma devo dire che è anche un piacere ma anche perché oggi come oggi non so se Angelo condividi bisogna correre bisogna correre cioè devi avere la freschezza devi avere la condizione fisica per consentire di stare fermi però ma in Lega Pro sono pochi quelli che hanno veramente i piedi guarda ti dico anche domenica stessa la partita che abbiamo visto io non ve lo nascondo a me sembrava di rivedere una partita di Serie D ho visto dei momenti dove i palloni volavano da una parte all'altra ecco perché comunque poi alla fine bisogna fare i conti con quella che è la categoria diciamo che in questa C per metà squadra il tasso di combattività è alto sì assolutamente sì vero che non è poco no 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 assolutamente però il merito invece delle dichiarazioni di mister Capuano è lui è lui è sempre schietto è uno che non le manda a dire né ai suoi giocatori anche quando sbaglia lui l'ha ammesso di aver sbagliato però quando c'è da fare una critica lo fa in pubblica piazza è una cosa che almeno per quanto ci riguarda noi apprezziamo tantissimo non so i giocatori però è un grande sotto questo punto di vista intanto c'è una notizia io almeno la leggo come tale non è stato convocato Tommasini non c'è non sappiamo perché non sa perché probabilmente non sta bene poi Capuano lo disse nella conferenza stampa di sabato scorso quando vedete una sostituzione oppure quando vedete che un giocatore non viene convocato non pensate subito a male ma ci possono essere ci può stare anche un'influenza una gastroenterice un risentimento muscolare qualsiasi cosa però non abbiamo notizie ufficiali in merito alla mancata convocazione di Cristian Tommasini pertanto ci sono soltanto tre attaccanti per sfida di Foggia di domani Rossetti Semprini e Bifulco questi comunque i convocati i portieri sono Vannucchi L'Oliva e Caputo e fin qui nessuna novità poi i difensori Manetta Antonini Canalicchio Ferrara Formiconi Evangelisti Sciacca ex fresco fresco Citarella e Boccadamo quindi Boccadamo è stato convocato era anche allo Iacobone domenica scorsa in occasione di Taranto Gervison centrocampisti Provenzano Mastromonaco Mazza Diabì Labriola Crecco e Finocchi quindi convocato anche Fabio Finocchi attaccanti come dicevamo Rossetti Semprini e Bifulco grazie a Gianfranco Melillo che ci propone anche la grafica dei convocati per la partita di domani alle 21 ecco mi fate a dire perché questa è una partita importante storica sarà seguita in diretta da Antenna Sud sul 14 pertanto sarà visibile sul digitale terrestre in Puglia tutta la Puglia e tutta la Basilicata con un ampio prepartita e un super ampio se così si può dire post gara con interviste insomma domani dalle 20 e 30 in poi potete mettervi comodi sul 14 godervi questo bellissimo derby storico fra Tarato e Foggia su Antenna Sud questo è un regalo del gruppo editoriale Domenico distante quelli sono i convocati sì però guarda sono tre gli attaccanti io mi aspetto qualche novità sicuramente perché comunque avendo tre attaccanti a disposizione che fai ne metti due subito e poi apri il campo sì sì però pensavo alle convocazioni no no parlavo dei convocati per Foggia quindi secondo me comunque il modulo di mister Capuano è sempre quello però qualche novità su Foggia noi la vedremo un po' più accorto un po' più attento pronto a ripartire a mio modo di vedere credo ci sta quindi vedremo vedremo un attimino però insomma i giocatori ce li ha e vediamo vediamo un attimo sicuramente vedremo qualcosa di diverso al centro campo tra l'altro al di là dell'assezza va rilevato che Tomasini ha avuto un paio di mesi alla fine del 2022 hanno tenuto il Taranto bene in careggiata ha fatto quei quattro gol consecutivi molto utili è un giocatore che in forma ha dato molto sì ma infatti ma sta crescendo Tomasini lo vedi anche in mezzo al campo lotta su tutti i palloni voglio dire piano piano sta venendo fuori anche lui comunque ripeto al di là di tutto si è a metà strada e a metà campo e buonanotte a metà classifica in Serie C tra poco vedremo anche la classifica così la commenteremo insieme adesso cominciamo il giuro dei collegamenti perché mi pare di aver sentito in sottofondo Fabrizio Caglianiello che è ancora al mercato di Milano mi pare ma è ingrassato ma lui è tutto l'anno lì e vai in onda soltanto Fabrizio sei ingrassato che hai fatto Fabrizio stai un anno lì e vai in onda il 31 gennaio sembri diabolico con quella mise ok ok veni lì ciao Fabrizio ciao ciao lui fa capodanno il 31 gennaio ho dovuto trovare qualche notizia residua Neglia da Cerignola è andato in preso alla Fermana è andato alla Fermana hanno depositato hanno depositato che tipo di mercato è stato vi faccio vedere tutto live io ho dovuto smontare la postazione di Antena Sud perché ci hanno cacciato dalla sala riservata alla stampa siamo nella sala bar vedete si sono svuotati i locali dello Sheraton Gianni è stato un bellissimo mercato è stato il più movimentato penso degli ultimi dieci anni in assoluto sia per presenze che per numero di operazioni concluse e poi c'è stato il solito brivido degli ultimi secondi in particolare ce l'ha regalato la Virtus Francavilla con questo contratto di Carlson grande acquisto non era previsto che è stato depositato alle 20.08 secondi la procura federale poco fa ci ha fatto sapere che è stato comunque validato in quanto possono essere depositati verso entro le 20 e 60 secondi quindi 21 minuto i contratti ci sono quei 60 secondi di tolleranza che hanno consentito la Virtus di depositare il contratto di Carson per il resto credo che si siano mosse un po' tutte bene le pugliesi il cerignolo ha fatto Montini l'ha chiuso con l'accordo del prestito il Monopoli ha fatto Santaniello quindi tutti i club che cercavano gli attaccanti ed erano tanti alla fine sono riusciti a farlo senti Fabrizio hai incontrato Luca Evangelisti nei corridoi lì sì è stato qui fino a tarda mattinata di oggi e poi è andato via ok come l'hai visto ci hai parlato perché lui ovviamente non parla sì 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 ci ho parlato ci ho parlato probabilmente voleva fare qualche altra cosa perché il Taranto aveva in piedi diverse trattative non tutte sono andate a buon fine come sapete credo che si stesse si stesse aspetta che c'è Giovanni Tateo il re degli agenti che mi sta chiedendo informazioni no no ma fate con comodo sì 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 ho metto i microfoni sì sì no scusate facciamo tutto live no ma fate quello prendetevi un caffè è serata e quindi stavo dicendo stavo dicendo credo che volesse fare qualcosa in più però questa è una mia sensazione in generale il Taranto ha preso comunque un giocatore importante perché Nocciolini è un giocatore molto molto importante è riuscito a fare anche l'uscita di la Monica che credo fosse una delle priorità scusami Fabrizio la Monica diamo anche questa notizia specifichiamo è andato al Giuliano con la formula del prestito con diritto di riscatto ecco questo è da sottolineare giusto per farlo sapere ai nostri telespettatori perché in questa trasmissione come sai si parla in chiave Taranto sì 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 la formula è stata questa credo che alla fine il Taranto abbia fatto comunque un buon mercato vuole dire è stata tra le prime a muoversi nell'arco di questa sessione credo che sia uscito comunque rinforzato sul piano soprattutto dell'esperienza da questa sessione invernale di mercato secondo te qual è stato il colpo più importante del Taranto? ma guarda io penso che proprio Nocciolini alla fine a me è un giocatore che più di Crecco è sempre piaciuto tanto se sta bene secondo me questo è un giocatore che può risolvere diversi problemi al Taranto aveva bisogno di un giocatore con queste caratteristiche Bene grazie a Fabrizio Caglianiero adesso andrai a cena vai a mangiare un po' di che cosa che cosa mangerai stasera? una un risotto alla milanese? una codoletta che può mangiare? no non lo so però è tradizione alla chiusura del calciomercato fare la scena di chiusura e si fa il punto della situazione e quindi magari esce qualche altra notizia vi farò sapere eventualmente eh sì perché poi le notizie le abbiamo date le abbiamo date il 99,9 periodico per cento Fabrizio invece io ti volevo fare una domanda quale secondo te è la squadra chiaramente non parliamo di quelle in alta classifica che si è rinforzata di più di quelle che stanno a centro classifica quelle che puntano a fare i playoff? Penso la Virtus Francavilla perché ha fatto una serie di operazioni secondo me mirate molto molto importanti De Marino penso ad esempio che aveva fatto dalla Juventus ma anche quello che ha fatto oggi comunque è stato importante ha centrato praticamente tutti gli obiettivi e devo dire che in questo ha il vantaggio il vantaggio della Virtus che è spesso protagonista del mercato e la presenza qua proprio di Antonio Magri e credo che alla fine sia stata quella che ha fatto meglio Grazie a Fabrizio Caglianiello complimenti dunque alla Virtus Francavilla al presidente Magri e ci salutiamo Fabrizio buon rientro e grazie per questo contributo Grazie a voi Gianni io voglio fare complimenti a tutta la squadra veramente mercato di Antenna Sud a tutta la redazione sono stati due mesi bellissimi abbiamo prima stiamo vedendo un po' le anticipazioni che abbiamo dato le abbiamo prese veramente quasi tutte quindi sono molto contento è stato anche il mio primo calciomercato che ho vissuto su Antenna Sud e ci siamo veramente divertiti sono d'accordo con te complimenti davvero alla super squadra della redazione sportiva di Antenna Sud salutiamo Fabrizio Caglianiello lo ringraziamo per questo un bacio a tutti ciao Fabrizio grazie vorrei se possibile vedere la classifica perché questo è l'evento diciamo più importante sempre alla fine dei conti siamo alla quinta giornata di ritorno ventiquattresima ci sono quattordici partite da giocare una vita ancora ma anche alla fine del campionato 42 punti a disposizione 42 punti a disposizione è tantissima roba sì certo il Taranto è quota 30 quindi sfondato uno dei 30 punti e diciamo che la squadra come diceva Capuano se vogliamo prendere proprio qualcosa di buono dall'ultima giornata dell'ultima domenica c'è questo punto in più rispetto alla griglia prea sì Gianni ma poi guarda se facciamo prendiamo sempre quello che succedeva l'anno scorso come diceva giustamente prima Angelo è una squadra che comunque hai la sensazione che sia più affidabile no? cioè comunque è una squadra che fai fatica a fargli gol è una squadra gestita bene devi saperlo a parte sì 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 infatti a differenza dell'anno scorso dove abbiamo avuto proprio un crollo in tutti i sensi quindi questa è una squadra che a mio modo di vedere ma non solo a mio modo di vedere ha detto un po' di tutti può solo migliorare può solo che crescere poi diciamo che come dire dal centrocampo in giù la squadra è a posto deve soltanto cercare di creare delle situazioni maggiori per realizzare infatti la squadra è stata messa sotto un paio di volte questo anno sì sì assolutamente assolutamente fa fatica ricordare ma anche lì a Catanzaro io voglio dirti alla fine no Catanzaro l'anno scorso scusa quest'anno no cioè almeno come punteggio ma alla fine Catanzaro tranne il rigore voglio dire alla fine non hai sofferto il Taranto il Taranto di Capuano realmente non ha mai sofferto in maniera particolare sì forse non ha creato tantissimo però è una squadra che è sempre stata fino all'ultimo minuto in gioco quando hai preso due o tre gole nel mezzo c'è sempre stato l'episodio sbinding door sì sì ma infatti poi qualche infortunio nostro qualche infortunio arbitrale però ripeto guardando in prospettiva se gli innesti che il Taranto ha fatto e sono tutti innesti che a mio modo di vedere sono sicuramente utili dalla causa se entrano in un certo modo il Taranto può solo crescere infatti è un'ugliata pensavo al Catanzaro dell'anno scorso dove fumo travolti intanto la nostra redazione sportiva sta cercando di comprendere il perché della mancata convocazione di Christian Tommasini per la gara di domani a Foggia del Taranto andiamo a fare il bilancio di quella che è stata questa campagna di riparazione come mi aveva chiamato una volta con gli arrivi allora Boccadamo difensore dal Montevarchi esterno destro non è juniore se un 99 poi Canalicchio 2001 dalla San Maurese in serie D altro difensore un braccetto mancino poi Sciacca difensore centrale ecco vediamo la grafica grazie grazie a Gianfranco Medillo perfetta fatemelo dire perfetta la parte tecnica di Gianfranco Medillo poi Siragusa difensore che è arrivato a Taranto da svincolato Citarella centrocampista Junioros 2003 dalla Germison Siragusa è un 2001 poi Luca Crecco che tra poco sentiremo centrocampista dal Pescara Finocchi centrocampista dall'Olbia 2001 Alfredo Bifulco attaccante dal Padova 27 anni Nocciolini 33enne attaccante dal Giuliano Simone Rossetti 27 anni attaccante dal Renato e Mauro Semprini 26 anni 25 anni attaccante dalla Lucchese questi sono gli arrivi allora sono Boccadamo Canaricchio Sciacca Siragusa Citarella Crecco Finocchi Di Fulco Nocciolini Rossetti SMP 11 calciatori una squadra intera ma anche il portiere questi invece in uscita Russo Real Agrovers portiere poi De Maria che è andato via ormai da un bel po' alla Lucchese Granata l'abbiamo visto domenica scorsa contro il Taranto da Gervison Vona alla Recanatese Camorani al Matese Sciapi Romano svincolato Guida la Turris Infantiro la Gervison la Monica al Giuliano Maiorino al Termoli e Panattoni al Pisa quindi 11 sono entrati e 11 sono usciti squadra rivoluzionata Gianni guarda se guardiamo la parte sinistra dello schermo e ti soffermi dando merito a tutti ma se vai a guardare Bifulco Nocciolini Crecco cioè sono tre nomi di un certo livello quindi se questi tre dovessero dare quello che possono dare sì sì però ti concentri su questi tre la coppia già Bifulco Nocciolini e un Crecco che ti gioca dietro guarda c'è da divertirsi ma tu Nocciolini dove lo metti in questo schermo ma lì dipende comunque lì è un esterno alto è un esterno alto nel 3-5-2 può giocare vicino comunque alla punta può giocare esterno ripeto poi dipende tutto dal mister ma sicuramente sulla carta sono giocatori importanti sono giocatori veramente importanti lo stesso Fabrizio abbia detto che per lui Nocciolini è uno degli acquisti più importanti sappiamo quanto lui si intenda di queste cose è sicuramente una garanzia quindi dobbiamo solo aspettare il tempo giusto affinché i giocatori possano entrare nel sistema capuano perché quello è un sistema capuano Noi in un anno solare abbiamo avuto due brevilini con il guizzo da mezza punta alla mezzala no? Sì Giovinco e poi Guida Guida Non rischia di mancare questo tipo di guizzo finale anzi il penultimo passaggio più che l'ultimo Beh ma Bifulco ce l'ha nelle corde questo tipo il fatto di saltare l'uomo Bifulco ce l'ha e adesso ripeto tutto sta a vedere un po' come entri nei meccanismi di mister Capuano Bifulco Nocciolini un altro che salta l'uomo devono solo ambientarsi entrare nelle quelle che sono le dinamiche del mister ripeto sulla carta Angelo sono giocatori importanti e credo che poi il fatto di venire a giocare a Taranto abbia fatto la differenza Facciamo così adesso vorrei salutare perché lo abbiamo in diretta Skype Luca Crecco vediamo se Gianfranco Merito ce lo fa vedere e sentire eccolo qui ciao Luca grazie sei in ritiro Ciao a tutti buonasera Ciao sei in ritiro sei a Foggia quindi vedo che insomma sei in stanza non ti rubiamo più di tanto tempo qualche minuto giusto volevo chiederti sì sì sono qui in ritiro è arrivato Rocciolini l'hai visto l'hai salutato non ho ancora visto no ok allora per quanto riguarda il tuo esordio ecco dal primo minuto contro la Gelbison mi dai un giudizio dai una valutazione nella tua prestazione guarda secondo me ti dico la verità mi sento il rimbombo ecco togli l'auricolare e parla poi quando finisci di parlare lo rimetti mi sentite sì sì bene mi sentite sì sì e se non hai l'auricolare non ci piede non ci sento sì ti sentiamo vai 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 tranquillo fai così sì c'è questo fastidioso ritorno ogni tanto accade ogni tanto accade bisogna fare l'abitudine bisogna fare l'abitudine perché il ritorno è la propria voce comunque Crecco sono sostituita al minuto più o meno alla fine il 46esimo ha avuto il cambio quindi magari sarebbe interessante capire tre sostituzioni pronti via nel secondo tempo il ritardo pronti via ha fatto tre cambi si sì sì ha già visto qualcosa che non andava il mister quando ha fatto i cambi però anche Crecco ha un pedigree di tutto rispetto quindi ci si attende molto da sto ragazzo lui l'ha ammesso poi Caporano ha detto che questa è una squadra che non può prescindere dai tre centrocampisti nel secondo tempo il tarotto ha cambiato modulo anzi già nel primo tempo quando è uscito Romano è entrato Semprini dal 3-5-2 si è passati al 3-4-1-2 con un attaccante in più un centrocampista in meno sono andati in due a fare i mediani e lì qualche problemino lì sono entrati in sofferenza anche perché nella fine del primo tempo ha giocato proprio Crecco nel ruolo di Mediano insieme con la Briola poi è entrato un giocatore che ha più caratteristiche da interditore voglio dire Provenzano ma la cosa non è che è andata anzi peggio Gianni se posso dire quello che ha più caratteristiche al centrocampo che è un po' quello che recupera i palloni è Romano cioè Romano è uno di quei giocatori sicuramente che rispetto a Provenzano rispetto agli altri è quello che ti recupera più palloni uscito lui è lì che abbiamo avuto il problema perché è quello che ti va a fare la pressione alta è quello che va su tutti i palloni gli altri no gli altri giocano un po' più di fino sono quelli che devono prendere e dare la profondità l'unico che noi abbiamo in quel ruolo è Romano adesso dobbiamo vedere quelli che abbiamo preso ora ma stiamo parlando di DAB eh DAB se dovesse rientrare il DAB anche al 60% il DAB che conosciamo 60% non esagero sarebbe già tanto per questo si riceve sì assolutamente sì e l'altro giocatore che lì c'è proprio lì ti rivoluzione una squadra non il centrocampo lì c'è il passo doppio al 60% assolutamente il DAB è importante eccolo qui Luca Crecco vediamo se adesso va meglio con il collegamento 5 minuti di collegamento con Luca Crecco poi lo lasciamo eh ci sei Luca? mi sentite? sì sì molto bene perfetto allora era una linea allora dammi una valutazione sulla tua prestazione no sicuramente è una prestazione che potevo fare solamente qualcosa in più eh era tanto tempo che non giocavo eh mi sono ritrovato comunque eh in un momento di gioco dove molto dispensato mi sento mi sento il rimbombo scusate ma togli la parla non si riesce a parlare così fai così allora ascoltami eh quando parli togli l'auricolare e tienilo soltanto quando è finito di parlare proviamo così ok vai niente dicevo è stata una partita molto dispensato cioè comunque ho speso tanto a livello a livello fisico non giocando da tanto tempo eh ho fatto il primo tempo e mi sentivo mi sentivo molto molto affaticato però è solamente questione di tempo adesso già già sto sto meglio e sono sono pronto a comunque a dare il massimo per questa per questa piazza per questa società la partita di domani partita complicata quella di domani Foggia che sta a mille ha vinto a Pescara segnando un poker di reti un 4-0 importantissimo e quindi c'è grande entusiasmo in casa rossonera eh tra l'altro Foggia insomma è in piena zona playoff no ma poi c'è una una condizione incredibile quelli di Foggia sentiamo ecco Luca sulla partita di domani un tuo pensiero una tua parola mi sono partito ci sei Luca? no allora facciamo così chiudiamo il collegamento con Luca Crecco perché purtroppo non riusciamo a farlo per bene allora rischiamo di fare telefonico va bene grazie allora grazie Luca Crecco comunque per la disponibilità per il contributo la squadra di ritiro Foggia da quello che ci è dato sapere dovrebbe esserci anche Nocciolini Crecco era in stanza non l'avrà visto ma sicuramente queste sono notizie di cui noi abbiamo di cui noi siamo in possesso non giocherà domani perché non è stato convocato ma penso che sia ovvio dopo quello che dice Capuano poi no poi con la teoria di Capuano è quella immagina uno che è oggi no ma figurati ma anche perché non c'è tutta questa urgenza che arriva uno con la valigia dai canta che gioca ha ragione Capuano assolutamente ma poi hai sentito già quello che ha detto Crecco sul discorso di entrare nei meccanismi l'occasione è diverso perché da un po' di giorni si sapeva quindi bisogna devi entrare nei meccanismi di mister Capuano lui ad esempio la cosa che io ho notato è il fatto di essere pronti nel recupero delle seconde palle cioè lui è uno che è pronti via di devi stare addosso e se non hai la condizione fai fatica quindi quelli che arrivano adesso o hanno la condizione o sennò veramente entrano in fatica mi consentire adesso di aprire una parentesi sul mercato sul calcio giocato una parentesi sentimentale quella che intende ricordare anche questa trasmissione Vito Chimè perché pensate se ne è andato proprio di domenica dove è morto a 69 anni in uno spogliatoio quasi sul campo quello che è stato da sempre la sua vita il 29 gennaio morto nel giorno in cui Erasmus Iacomone è assegnato con la maglia del Taranto l'ultimo gol della sua vita fu a Pistoia il 29 gennaio del 1978 per una serie di coincidenze tutte fortuite tanto fortuite quanto strane molto affomarico che il paese di origine dove è nato un altro grande Rosso-Blu Franco Selvaggi come a dire il Taranto ce l'aveva nel cuore poi chi menti è chi menti punto e nella storia abbiamo voluto ricordarlo in questa maniera una domenica triste quella di due giorni fa poco prima dell'inizio di Taranto Gelbison infatti nei vari settori dello stadio Iacovone inizia a diffondersi la notizia riguardante la morte di Vito Chimenti goleador di Rosso-Blu dall'82 all'85 stroncato da un malore all'età di 69 anni prima del match di eccellenza lucana trappomarico squadra di cui era tecnico del settore giovanile e Real Senise partita naturalmente rinviata una perdita dolorosa che ha generato tanto sconforto in tutta Italia il bomber della bicicletta suo gesto tecnico più celebre aveva trascinato tante squadre dal nord al sud della penisola da Lecco a Pistoia passando per Palermo Matera e Catanzaro Chimenti vanta anche 13 gol nella massima serie quella di Taranto era stata la sua ultima esperienza da calciatore un triennio memorabile in Rivalo Ionio con un campionato di C1 vinto e due partecipazioni consecutive in serie B e il pubblico presente domenica lo Iacovone lo ha omaggiato con un lunghissimo applauso a testimonianza di cosa abbia significato la sua militanza in rosso-blu per il popolo di Taranto che saluta per sempre uno degli idoli più ricordato di sempre Vito Chimenti poi ci fa venire in mente quel Taranto del Cavaliere Pignatelli della metà degli anni Ottanta diceva bene Vito di noi che ringraziamo dall'83 all'85 un campionato di C vinto e un campionato di serie B è andato a finire male però con la retrocessione però i suoi gol non sono mai mancati né in C né in B e quindi anzi fu uno degli artefici di quella bella promozione a braccetto con il Bari in serie B l'immagine che ho è proprio del Cavaliere Pignatelli che fa il giro del campo con la stagione di Sant'Antonio con lo stadio che non era stato ancora ristrutturato che poi sarà ristrutturato nell'86 raccoglieva applausi scroscianti c'era questo fenomeno popolare lo ricordi tu mi sono permesso ieri di fare un po' su Facebook su questo era una squadra attaccata alla pelle della città perché le squadre delle città erano attaccate alla pelle delle città assolutamente vero verissimo e chi menti ricordato da tutta la stampa nazionale dalle varie testate sia di carta stampata che TG e anche degli approfondimenti sportivi più illustri più seguiti significa che è un calciatore che ha due caratteristiche che conosce il gioco del pallone e chi menti ne era maestro e che attraversando varie piazze anche rivali tra loro ha lasciato il segno e nessuno poi si permette di dire sì però ha giocato con quell'altro no anzi è bello creare il puzzle delle magliette significa che quel calcio è ancora paga nella coscienza nel sentimento io avevo 12 anni e Tarantobari 2 a 1 Formoso Chimenti Galluzzo Formoso contro quel Bari che in due anni andò in Serie A battè la Juventus di Platini in Coppa Italia e se ricordo bene fece la finale con la Roma con il Verona alla semifinale di Coppa Italia adesso non ricordo quel Bari arrivò lì era portissimo il Bari di Bolchi Cuccovillo Detrizio e altri con Galluzzo e Messina che vennero qui persero 2 a 1 perché il Taranto arrivò secondo però battè quel Bari qui c'erano forse 30.000 persone allo stadio io ero tra quelli ragazzino in curva sono cose che ti restano attaccati io ricordo di Chimenti se non ricordo male un tunnel a Torino a Platini con un tiro sulla travesa con un tiro qualcosa di spettacolare sono cose che poi ti restano sì insomma ecco allora facciamo così chiudiamo la parentesi Vito Chimenti ricordando l'urlo che si alzava sugli spatti dallo Iacovone quando c'era la punizione da lì tira la barba no ci sentiva Vito Vito perché voleva sapeva dove andare chiamava il suo nome cioè voleva che la punizione fosse battuta lui e infatti era un tiro non voglio sbagliare chiedo già scusa a tutti i tifosi se stanno sbagliando ma c'era la Sud sì all'epoca sì ok ricordo esatto c'erano gli Angeli no allora ultimi sette secondi perché questo è un video recentissimo di Vito Chimenti che mi è stato girato proprio domenica scorsa da Massimiliano Odolo che ringrazio per l'occasione vediamo quello che dice in questo video nella sua materia perché poi si era trasferito lì lui è nato a Bari ma viveva ormai da tempo a Matera buongiorno un saluto da Matera forza Taranto sempre in bocca al lupo un saluto da Matera forza Taranto sempre in bocca al lupo queste dichiarazioni di poco tempo fa è venuto lo Iacovone qualche anno fa c'erano delle foto che le avevamo visto è vero allora ci trasferiamo sulla strettissima attualità ovvero sul derby Foggia Taranto che già citare si gioca Foggia Taranto è una notizia è bello è bello il piacere di vederti questa partita indipendentemente dalla categoria da tutto il resto che è una bella partita bella partita tra due esatto Foggia insomma guarda che ha fatto la Serie A ha visto anche ottimo calcio e poi ci sono state sempre cioè non c'è stata mai che sia stata giocata Taranto o la Zaccheria una partita noiosa tra Taranto e Foggia è stato sempre un bellissimo derby ricordo anche un grande gol di Toledo una quindicina di anni fa contro il Foggia sotto l'acquazzone con colpi di scena sì sì ma con colpi di scena io ricordo un Taranto Foggia 0 a 2 con Zeman in panchina in Serie B quando fu lanciato anche una bottiglietta dagli spalti che colpi Turrini colpi Turrini sì erano Rambaudi Signori e Baiano quel Foggia là bravissimo o 2 a 0 o 1 a 0 finissi per il Foggia mi ricordo il muro umano di tifosi di Foggia nella sud e poi la partita sotto la pioggia lo Iacovone per un 2 gol di Toledo quello che dicevo sotto l'acquazzone con De Florio e Toledo insomma Taranto Foggia non è mai una partita banale guarda sicuramente troviamo una delle squadre più in forma del momento è un grande attacco sono fortissimi sono a trazione anteriore però dall'altra c'è una squadra come il Taranto che sicuramente sarà difficile da perforare sarà una bellissima partita io quello che posso soltanto sperare che il Taranto possa concretizzare il più possibile quelle che saranno le occasioni che sicuramente il Foggia ci lascerà perché una squadra essendo a trazione anteriore che ti lascerà degli spazi ci verranno ad aggredire altri non sono squadre che ti aspettano però sono convinto che il mister Capuano pur avendo pochissimo tempo perché noi abbiamo giocato domenica e domani si gioca l'avrà già preparata la grande quindi non ci annoieremo Gianni tu andrai a fare una telecronica di una partita bellissima tra l'altro proprio l'ultima partita giocata allo Zaccheria Foggia-Tarranto della passata stagione in Serie C fu una partita stupenda bellissima il Taranto passò in vantaggio con un calcio di rigore i Saraniti e poi il Foggia pareggiò nella ripresa con Petterman se non ricordo male vado in memoria ma fu un 1-1 spettacolare con un sacco di occasioni da rete dall'una e dall'altra parte come del resto è sempre stata Foggia-Tarranto o Taranto-Foggia che si sia giocato a Foggia in Terra d'Aura o a Taranto guarda ti ripeto secondo me sarà una grande partita e il Taranto qua non lo so potrebbe essere anche un po' la partita di svolta perché a mio modo di vedere Foggia è una di quelle tappe che insomma se fai una grande prestazione poi ti porta un'autostima e quant'altro ricordo male un Taranto-Foggia con un gol di Chimenti su punizione lo ricordo male come un sogno e lo so ma anche la mia però sai quei flash mi ricordo un gol su punizione di Chimenti ma non ricordo se è Foggia e allora vediamoci la scheda sul Foggia sempre il nostro vito di noi se è successo qualcuno se lo ricorderà lo scriverà sicuro però io c'è riecco il derby più giocato di Puglia riflettori del mercoledì sera tutti accesi su Foggia Taranto partita delicatissima utile a misurare le ambizioni di entrambe seppur per obiettivi differenti i rossoneri sognano il grande salto in B gli ionici cercano punti salvezza per poi affrontare spensierati la parte finale della stagione quella di domani sera sarà la sfida numero 34 in Capitanata 13 vittorie foggiane 11 pareggi e 9 le affermazioni del Taranto Foggia in netta ripresa dopo qualche intoppo iniziale la squadra ha ritrovato una sua fisionomia grazie all'apporto di Gallo lo 0-4 di Pescara è segno tangibile di una squadra in salute rinforzatasi a dovere nel mese di gennaio i colpi a effetto sono stati nel dettaglio Vacca e Beretta 3-5-2 l'impianto tattico della squadra che vede Nogunseie il punto di riferimento offensivo principale fin qui autore di 5 reti Peterman è la mente pensante Capitan di Pasquale giostra la perfezione la manovra difensiva in trecci a livello dirigenziale il DS del Foggia e Pier Giuseppe Sapio qualche mese fa indiziato principale a sostituire Monterbino anche se la scelta ricadde poi su Dionisio nelle fila del Taranto invece Milita Sciacca recentissimo ex della Contesa che potrebbe debuttare il Rosso-Bru proprio allo Zaccheria una gara da vivere in chiaro su Antenna Sud Canale 14 appuntamento alle ore 21 Ci sono anche questi motivi di interesse vale a dire il direttore sportivo del Foggia è Tarantino di Carosino in comune a 10 km dal capoluogo e poi Sciacca che si è allenato con il Foggia fino a 10 giorni fa e quindi è un ex proprio io credo che farà fatica domani a scendere in campo perché del Foggia sono quelle partite che poi sai alla fine sei stato lì fino a qualche tempo fa sarà ripeto una partita importante Gianni sarà bella sarà bella e il Taranto dovrà fare tutto il possibile per sbagliare poco e cercare di metterci tanto agonismo tanta attenzione però sono abbastanza fiducioso Taranto-Foggia 83-84 C1 gol di Chimenti 1-0 l'ho trovato promosso l'ho trovato l'anno dopo segnerà Maiellaro sotto la sud quello me lo ricordo bene dal limite però mi ricordavo questo Chimenti che fece io ricordo un grande gol anche su punizione posso chiedere il conforto da casa? sì chiediamo l'aiuto da casa io ricordo un tiro su punizione di Chimenti però la statistica è confermata allora per quanto riguarda ecco questi motivi di interesse abbiamo detto sono tanti anche per la classifica un Foggia sicuramente che va a 200 all'ora il Taranto che accaccia il primo gol del 2023 il successo che manca dal 18 dicembre scorso quindi insomma ci sono tante cose poi diciamo le squadre che sono separate in classifica da pochi punti pertanto sarà sicuramente una partita equilibrata e non mancheranno le emozioni secondo te che tipo di formazione farà Capuano? cioè lì davanti in particolare perché per il resto il dubbio sorge dove sul terzo centrocampista perché io credo che l'Abbriole Provenzano partirà dall'inizio poi chi sarà il terzo è l'incognita e lì davanti dei tre convocati perché Tommasini non c'è vuol dire sepprini Rossetti e Bifurco chi andrà in panchina e chi andrà in campo Romano c'è dei convocati? c'è Romano la domanda è pertinente perché se c'è Romano recuperato credo che Romano Labriola esagero? no Romano Romano sta bene però Crecco ha detto una cosa importante prima ho giocato solo un tempo non giocavo da tanto posso dare di più? no Romano non c'è allora Crecco Labriola Provenzano secondo me e poi i due davanti infatti per quello ti chiedevo il terzo centrocampista chi sarà alla luce dell'assenza di Romano perché è uscito credo Provenzano credo Provenzano Labriola e il terzo Crecco Crecco però credo che giocheremo con un abbottonato e serio e robusto 3-5-2 che significa 5-3-2 ma è il suo è il suo modulo che fa sempre fa sempre poi vai incontrare in casa una squadra che viene da 4 gol ha vinto 7 partite è in ritmo anche psicofisico non è che vai lì a dire a giocartela vai lì a fare una gara prudente tatticamente intelligente sperando di ripeto secondo me poi Gianni in avanti che non vuol dire fare barricate secondo me Rossetti Bifulco oppure come è successo già ad Andrea in partenza Semprini Bifulco a lui Semprini non è piaciuto dietro gli attaccanti però Bifulco sicuramente sarà in campo la staffetta è tra Semprini e Rossetti se non c'è Tomassini secondo me Bifulco Rossetti anche secondo me altrimenti sarebbe stato Bifulco Tomassini intanto considerando le condizioni non eccelse di Diabì dal punto di vista atletico e di Finocchi che è appena arrivato e di Mazza che comunque dovrebbe giocare da mezzala è successo ma quando eravamo proprio in emergenza io credo che la cosa più logica al centrocampo sia schierare Labriola Provenzano e Crecco quindi questi sono i tre di centrocampo poi sugli esterni ormai non fa più assolutamente né notizie né null'altro Ferrara e Mastro Monaco dietro vedremo se giocherà Manetta o Formiconi come Braccetto o Mancino per il resto Evangelisti e Antonini con Vannucchi in porta diciamo quelli sono gli stabili potrebbe essere sì diciamo ci sono tre punti interrogativi quale sarà il tandem d'attacco chi farà il tandem con Bifulco se sarà Crecco o Mazza a centrocampo se il Braccetto Mancino sarà Manetta o Formiconi ecco questi tre se fa quel tipo di modulo con il 3-5-2 o se fa un 3-5-1-1 Gianni dipende poi come vuole schierarsi in campo lui però guarda indipendentemente poi dai numeri da quelli che noi andiamo a mettere ecco abbiamo saputo il motivo per il quale non è stato convocato Tommasini per un attacco influenzale improvviso alla febbre quindi ti ripeto non sottovoluterei il fatto di vedere di vedere Mazza cioè Mazza è un ragazzo interessantissimo uno che recupera tantissimi palloni se dovessi vedere il sostituto di Romano sotto l'aspetto puramente di quantità al di là della qualità è uno che va tantissimo ad attaccare l'avversario e la Briola questo c'era un po' meno quindi se hai bisogno di qualcuno che faccia legna come si dice credo che Mazza sia uno di quei giocatori che fa tanta legna Cristian Scardicchio scrive Taranto Foggia da 30 metri chi menti su punizione alla veneziana il portiere compianto la veneziana bravo tifoso preparato grazie intanto abbiamo due pesanti assenze in casa Taranto voglio dire quella di Antonio Romano e quella di Tommasini il primo infortunato è uscito prima domenica scorsa con la Gelbison e l'influenza che ha beccato Tommasini queste sono due assenze pesantissime lo so Gianni però ripeto devi fare di necessità virtù devono entrare in forma quelli che sono i giocatori che hai al momento a disposizione devi sfruttare le palle inattive il Taranto ultimamente anche sui calci d'angolo cose di questo tipo non sta sfruttando al massimo quelle occasioni che gli arrivano quindi bisognerà fare una partita molto accorta e ripeto nel momento importante cercare di realizzare il più possibile e poi gli angoli li conquista domenica 8 a 2 se non sbaglio ma non è solo domenica tantissime volte il Taranto ha tantissimi calci d'angolo però poi non concretizza quindi sicuramente vedere anche poi lo stato di forma del Foggia il Foggia sta in una condizione fisica atletica eccezionale veramente una squadra che va a mille però noi non siamo da meno ce la giocheremo sicuramente sarà una gara Gianni da tripla come si suol dire insomma ecco nulla di scontato nulla di scontato poi a noi manca il gol e quindi per una questione anche la legge dei grandi numeri statistica sì sarà una bella partita assolutamente vietata ai tifosi Gianni la trasferta? no ci sono 500 biglietti disponibili ma soltanto con la filiality card e quindi questo è quello che è ufficialmente stato deciso per questa partita eravamo tutti convinti che ci fosse il divieto indipendentemente dalla filiality card invece ci sono 500 biglietti disponibili vedremo poi domani vi informeremo su quanti ne saranno venduti vi ricordo le 21 in diretta su Antena Sud Foggia Taranto sul 14 del Digitale Terrestre domani anche perché molti mi hanno chiesto durante la giornata in particolare quella odierna se questa partita fosse trasmessa o meno da Antena Sud ebbene sì e non solo la partita ma anche il pre-gara è un ampio post-gara con interviste nella sala stampa dell'accogliente stadio Zaccheria di Foggia intanto io vorrei parlarvi anche dell'arbitro grazie anche a Sant'Escardillo che ci dà le statistiche sui direttori di gara l'arbitro della partita Foggia Taranto allo stadio Pino Zaccheria sarà Marco Emanuele della sezione di Pisa quarto anno in Serie C 79 partite 45 in C 2 in Coppa Italia 29 nel campionato primavera anche diretto Italia Spagna gara di qualificazione agli europei under 17 320 le ammunizioni 29 le espulsioni 30 calci di rigore decretati 3 i precedenti con entrambe tutti finiti in parità con i satanelli vivonese vivonese foggia 1-1 la Serie C dell'anno scorso invece con i rosso-blu Altamura Taranto 2-2 2018-2019 Latina Taranto 0-0 della passata stagione 6 le gare dirette nel giro di C della Serie C in questa stagione Avellino Messina Francavilla Fidelisandria Picerno Potenza Pescara Cerignola Viterbese Crotone Avellino Pescara queste le partite che ha diretto quest'anno il signore Emanuele gli assistenti arbitrali saranno Federico Pragliola di Terni e Veronica Vettorell di Latina il quarto uomo Francesco Carrione di Castella Mare di Stadia grazie a Sante Scardillo a proposito degli arbitri ieri sera ho visto la partita Cerignola-Monopoli c'è stato arbitrato un arbitro con grandissima personalità l'hanno fatta in diretta su Rai Sport bellissimo vedere un arbitro che fa giocare un arbitro che dialoga con i giocatori quando hai la percezione che chi ti arbitra è uno che sa il fatto suo che sa fare il suo mestiere tutto cambia e purtroppo quest'anno ahimè poi sbagliano tutti però sinceramente il livello della Terna Arbitari quest'anno è stato proprio per quello che abbiamo potuto vedere non è stato il massimo ma quello di ieri sera è stato è stato incredibile veramente un arbitro in odore di promozione veramente in gamba allora per quanto riguarda le vignette salutiamo e ringraziamo Leo Zazza vediamo come ha vissuto la settimana dal punto di vista della Satira per la nostra trasmissione Leo Zazza ovviamente un riferimento anche a Vituccio Chimenti non poteva mancare vediamo insieme le vignette con la collaborazione di Gianfranco Medillo dottor è grave? no è semplice pareggite acuta 4-0-0 delle ultime 5 partite e beh mister Capuano te lo dovevi aspettare lo 0-0 vedi tatuato sulla pelle andiamo avanti con la seconda vignetta colmo dei colmi avere le polveri bagnate e stare a secco di gol e questo a chi accade a un delfino quindi che ha le polveri bagnate la legge così Leo Zazza e poi chiudiamo eccolo qui con Vituccio Chimenti Vito e la sua bicicletta quante volte l'abbiamo vista quando giocava col Taranto allo Iacovone andava fino alla riga di fondo metteva il padrone dietro al tacco con l'altro tacco se l'alzava non so non ho mai capito come da ragazzino ci ho provato tante volte penso anche voi però abbiamo rotto tante finestre la Fardiles nel film Fugo per la vittoria no? la Fardiles in una scena ma quella è una scena provata e riprovata a lui veniva facile su Repubblica a parte l'intervista a Vituccio Chimenti proprio su questa giocata su questa finezza una magia ecco perché diversamente non so come definirla e lui disse che lo fece in una partita Palermo-Napoli Napoli e fece Catellani è un difensore centrale molto noto in quel periodo fece la bicicletta poi il pallone riscese sul sinistro e calciò segnando un gol eccezionale e Catellani lo mandò a quel paese planialmente sarà ripresa oggi questa cosa lo mandò a quel paese planialmente ma in maniera robusta sì in maniera diciamo io sono stato cercato con l'eufemismo allora eccola eccola qui la bicicletta solo lui riusciva a farla poi io non ho mai visto più nessuno ma qualcuno così giusto qualche globetrotters ma forse Neymar ma lui la faceva la faceva con naturalezza la faceva sempre la faceva in Serie A in Serie B in Serie C la faceva ovunque quindi in qualsiasi campionato bene grazie chiudiamo qui questa puntata abbiamo preannunciato un collegamento anche con Nicolas Bremen perché avremmo voluto ascoltare anche il parere di uno che questo bellissimo derby di domani l'ha vissuto con tutte e due le maglie però purtroppo abbiamo dei problemi di natura tecnica e ci scusiamo con i nostri telespettatori quindi grazie a Roberto Donofrio grazie a te e ovviamente anche Gianfranco Medillo che come sempre ci supporta in cabina di regia con le sue manine prestigiose grazie a voi da casa domani ci diamo appuntamento alle 14 con Foggia Taranto su Antenna Sud per questo derby di Puglia il più antico come diceva Vito Di Noi nella sua scheda grazie e attenzione grazie a tutti